ragazzi allora randonautica è passata di moda però io la voglio fare tornare di moda anche se in realtà non c'è un cazzo da fare usiamo randonautica ed eccoci ragazzi randonautica ragazzi vi ricordo che è vecchia come app è passata di moda proprio non so perché non l'abbiamo riportata la generata adesso ed è la ragazzi siamo arrivati qua con randonautica guardate questo è il posto e siamo stra abbandonato ragazzi è un veicolo c'è una tipo una strada stra mega abbandonata siamo qua perché per visitarlo io ho paura in realtà non so perché e ragazzi ma ragazzi qua praticamente in realtà ci siamo già venuti una volta e praticamente vi spiego la storia in breve avevamo visto un signore lì in fondo che c'era tutto buio ragazzi non avevamo neanche la torcia e ci siamo spaventati perché sentivamo delle voci vedevo qualcuno muoversi e ho detto c'è qualcuno sono scappate ragazzi e c'era questa signora che diceva fermi ragazzi e tipo non si è scappati via vabbè e ragazzi sento rumori dappertutto ecco questo qua è lui che fa rumore allora siamo quasi sempre più là in fondo forse è meglio se camminiamo un po più piano più piano perché secondo me è meglio va bene siamo quasi arrivati in fondo i scolli cosa cosa ne pensi dal ma scusami fermo fermo ma una macchina aspetta 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 ma sai perché questi rumori non si sentono tanto nel video cazzo è stato il bambino figo ragazzi no scusatemi ragazzi ma c'è tanta suggestione ah ma sono i grilli ok questi ragazzi sono gli animaletti vabbè fa molta paura fa molta paura ragazzi ma che rumore è stato oh se si è sentito nel video giuro era fortissimo tipo a un certo punto si è sentito tipo come se uno facessi a uva e poi pensavo fosse la macchina no? credo tipo senza luci si ragazzi questo qua è quello che vediamo noi è quello che vediamo noi si ma dalla tele fotocamera non si vede solo perché sto mettendo la torcia ok ragazzi piano piano ci avviciniamo allora è qui è qui è qui è qui ma stai scherzando? solo io ho sentito questi passi cioè erano più belli è un passo un passo ragazzi aspetta 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 è qua è mamma mia no 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 aspetta 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 già fa paura sto andando in autica ci ha portato qua in realtà senza scopo perché è un motivo per cui noi siamo qua non lo sappiamo neanche noi e qua ragazzi c'è il cancello che non potremmo andare oltre c'è i residenti autorizzati là c'è una strada che si spenga la luce si vede molto bene in realtà forse è meglio lasciarla chiusa non fa niente questo è qualcosa qua è un piccione morto ragazzi andiamo là a vedere cosa c'è io sono stracorioso in realtà qua non potremmo entrare spero sia abbandonata però c'è la luce è impossibile vabbè anche qua c'è la luce forse ci abita qualcuno ragazzi ti immagini che content sia abbandonata l'occhio umano non vede così tanto ma chi è che abita qua isolato nel mondo dai è impossibile libero ah merda eh ma ma qua chi è che ci abita scusa per te ci abitano ma dai ma chi ci abita qua eh c'è fin quello vecchissimo no non mi ricordo ragazzi è abbandonato mi sa per forza dai chi ci abita qua ti ricordi quando siamo venuti siamo andati a quella ragazzi ci ho fatto per un video mi sa è simile quella lì è uguale perché secondo me tipo non è sempre una fattoria tipo ma ma aspetta è sempre abitato però là cazzo è stato aspetta 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 ma no aspetta aspetta io tornerò indietro figlio aspetta 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 torniamo indietro a vedere cosa cosa c'è dentro non è abitato è impossibile ok non c'è niente cos'è che ha piccato contro scusa oh madonna che spaventi pari cioè raga ci sentono un sacco di rumori che voi in realtà non sentite tutti li direi dentro li direi tornare indietro andiamo a vedere cosa c'è qua vedi ci sono delle ante dai no ah si è stato tu a parlare porco cane ragazzi no no aspetta mi sto cagando sotto è bruttissimo è bruttissimo è vero c'è la luce accesa c'è la luce accesa qua ci abita la gente qua ci abita la gente te l'avevo detto te l'avevo detto sembrava troppo strano raga allora sono stati loro a fare i rumori scusami no è impossibile no 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 i rumori erano qua no ragazzi è impossibile è impossibile basta 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 no no via via non corriamo ragazzi no no basta è bello che adesso è abitato ok ma adesso dobbiamo farci tutto questo pezzo qua no 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 aspetta ragazzi oh no no guarda là c'è un signore raga non si no non si vede vedete quello là raga dove c'è se spuglio no 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 guardalo no 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 aspetta andiamo via andiamo via andiamo via basta guarda la luce là no ragazzi cosa ci fa con la luce là in fondo ma mi stai andando per il culo raga registro io tengo registrato ho paura anch'io scolli è una bici no 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 adesso registro oddio è una bici raga io registro faccio finta di niente non dice raga è una bici tu hai becciato tu hai becciato sì vedo porca troia porca troia ragazzi porca troia mi ha guardato con una faccia randonautica funzione ragazzi ancora eh però dove cazzo va cazzo da quest'ora lo vedete raga voglio vedere dove va aspetta lo vedete raga eccolo là lo vedete è il riflesso della giacchettina dove cazzo va dove cazzo è andato scusami guardate raga lo vedete si muove guardate con la lucina là è in bici tipo c'è un giacchetto andiamo via niente ragazzi basta spero di essere iniziato il video sì se lui non è se lui non è andato lì dove cazzo è andato cioè dove cazzo vai là raga raga è strada chiusa quella là è impossibile non ci cosa cazzo ci fa lì perché ci raga guardate 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 no ragazzi basta lo vedete lì la lucina perché lì ferma quel signore in b di prima no aspetta ragazzi ho paura no 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 aspetta scolli aspetta che spengo il video no 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 aspetta è impossibile